Ciao a tutti e bentrovati. La settimana in tv oggi parla della giornata del malato. Poi avremo le notizie con il Vangelo in piazza, il saluto a Don Giorgio che ci ha lasciato e poi ancora la giornata per la vita che è stata appena celebrata. Eccellenza, nei prossimi giorni o meglio domani sarà la giornata del malato dedicata a chi soffre. Da sempre la Chiesa segue le persone che soffrono. In diocesi sono centinaia e centinaia di persone, i ministri straordinari dell'Eucharistia che ogni settimana, lo sapete anche voi, tanti di voi li conoscete, o ne siete voi ministri straordinari dell'Eucharistia. Cosa fate? Andate a trovare gli ammalati, soprattutto coloro che sono allettati, coloro che non possono più muoversi di casa, una parola, una compagnia, un giornale, la spesa, una preghiera insieme, la comunione. È un modo della Chiesa con cui è vicinissima a tutti coloro che sono ammalati. La malattia purtroppo è parte della nostra vita. Ci si ammala per un raffreddore, ci si ammala per un morbillo, per la tosse canina, ci si ammala in maniera più grave, a volte tragica. A volte c'è la tentazione di volerla far finita. Quante volte anche io da parroco mi sono avvicinato a persone logorate dalla malattia e mi dicono ma che ci sto a fare? Poi c'era la sua moglie, le sue bimbe, che gli veniva la lacrimuccia all'occhio. Dice vedete lo faccio per quelle lì, per quelle lì, perché se no io che ci sarei a fare? Capite? Quando ci sono gli affetti c'è la motivazione per rimanere. Chi è che vorrebbe che la propria mamma, anche se anziana, sparisse? Ma anche se è anziana, anche se la portrona che mi stia lì poter dire, fino all'ultimo, poter dire, andare in camera, tornare la sera tarida e dire mamma e sentirsi di bimbo. Questa è la gioia più grande che c'è. Ma il problema è di affetti. È evidente che se da mamma non ci vado mai e che non l'ha un sidero, non esiste più nulla, non c'è più né Natale né Pasqua, niente. Mamma dice che ci sto a fare. Vedete, mi hanno dimenticato tutti e ve la voglia di farla finita. Certo questo è un dramma grande. C'è sempre stata gente che ha cercato purtroppo il suicidio, ma c'è da domandarsi perché. Perché? Perché quando c'è un cuore, quando c'è un affetto, quando c'è un amore vero, quando te ti senti al centro degli affetti e non ci pensa queste cose. E anche se è anziana, anche se è ammalato, non ti pare vero di rimanere lì e voglio vedere la unione del mio bimbo o voglio vederlo sposare o voglio vedere qualche altra cosa. Capite? O voglio vedere Sanremo. Capite? È un problema di affetto. È un problema di affetto. E questa è la risposta da dare. Non tante leggi, che qui si vuole anche dare il diritto a morire. Ma diamo diritto a vivere. Se mai sosteniamo coloro che sono, e non voglio banalizzare, in gravi problemi vediamo come aiutarli. Suor Costanza Galli è il responsabile del reparto hospice dell'ospedale di Livorno. In questi giorni si sta discutendo di questa legge che dovrebbe approdare in Parlamento sul fine vita. Di cosa si sta parlando in particolare? Si sta parlando dell'importanza di poter avere per un malato la possibilità di dire anticipatamente cosa vorrà fare quando sarà colpito da una malattia grave e lui non sarà più in grado di dirlo. Quindi le famose dichiarazioni anticipate di trattamento. Ma naturalmente dovrebbero riuscire tutti a gestire questo passaggio che è molto importante fuori da percorsi ideologici. Perché spesso si va a una discussione solo di campo e non si affronta invece nel dettaglio le questioni che sono questioni molto importanti per le famiglie e i malati che si trovano ovviamente ad affrontarle. E particolarmente io raccomando la conoscenza anche dei termini, la conoscenza delle questioni che si dibattono. Perché dietro ogni singolo termine tecnico si nasconde diciamo una verità che va assolutamente conosciuta. Un termine non è uguale all'altro e un termine non può essere scambiato per un altro. Invece ogni tanto noto anche su questi temi bioetici molta confusione per non dire molta ignoranza. Bentornati con l'appuntamento con le notizie dalla Diocesi di Livorno. Nell'ambito delle celebrazioni della settimana per la vita il Serra Club di Livorno ha invitato due specialisti per trattare un tema assai delicato e dibattuto, quale quello dell'obiezione di coscienza che dopo l'introduzione della legge 194 ha sollevato molte questioni, alcune delle quali sono state affrontate durante la serata presso il Salone della Parrocchia di Santa Lucia d'Antignano. È stata l'occasione per la dottoressa Marina Casini di Milano, ginecologa, e la dottoressa Lorela Battini, medico ginecologa e studiosa di bioetica e docente dell'Università di Pisa per rispondere alle molte domande, specie in materie di legge. È stata celebrata nella Chiesa del Sacro Cuore ai Salesiani la 39esima giornata nazionale per la vita. Quest'anno è dedicata alla difesa di ogni persona umana dallo sbocciare della vita fino al suo termine naturale. Il nostro sia la vita, come ha sottolineato il Vescovo Simone durante la celebrazione, non può essere un fatto generico perché le persone in difficoltà hanno bisogno di cose concrete. Dobbiamo perciò tutti rimboccarci le maniche e agire come ci insegna Madre Teresa di Calcutta. Un impegno quotidiano che la Diocesi di Livorno fornisce grazie ad alcune strutture e servizi che si prendono cura della vita dalla nascita alla morte, che sostengono chi vive situazioni problematiche per accompagnare e tutelare gli esseri umani in ogni momento della loro esistenza. Per conoscere queste strutture è stato distribuito un dépliant perché attraverso un'informazione più capillare i servizi possono essere ancora più utili alla vita. Ci ha lasciato nei giorni scorsi al termine di una lunga malattia Don Giorgio Mangano. Mi piace associare Don Giorgio al numero di coloro che faticano nell'ombra, nel numero di quei tenaci e gioiosi protagonisti di un lavoro silenzioso quali oggi sono ancora tanti i nostri preti, ha detto Monsignor Giusti durante i funerali. Non è lo splendore delle cose grandi che può illuminare una persona, ma è la luce interiore che da essa promana che può illuminare anche le cose umili e trasfigurarle. Potremo rileggere la vita sacerdotale di Don Giorgio alla luce della speranza. Siamo qui quindi per dire la nostra certezza di vivere oltre il tempo. Una serata per le vie del quartiere di Sant'Andrea annunciando il Vangelo. Così Don Edoardo Medori, parico dell'omonima parrocchia insieme al Vescovo Giusti, ha percorso le strade di una delle zone più tormentate della città. Il quartiere infatti è al centro di episodi sempre più violenti di criminalità e oggetto di un degrado sociale sempre più crescente. Un gesto forte, segno di costante impegno della parrocchia che non vuole chiudere le porte, ma aprire per accogliere tutti. Sono iniziate nei giorni scorsi le lezioni del secondo quadrimestre della Scuola di Formazione Teologica Don Antonio Marini. I temi trattati in questa seconda parte dell'anno sono la morale fondamentale con Don Raffaello Schiavone, la catechetica con il Vescovo Monsignor Giusti e le lettere di San Paolo con il professor Francesco Morosi. Per informazione potete rivolgervi alla segreteria scrivendo una mail a scuolateologica-livorno.chiesacattolica.it Vi segnaliamo adesso alcuni appuntamenti per la prossima settimana nella Diocesi di Livorno. Domenica 12 febbraio alle 10.30 in occasione della visita pastorale al secondo vicariato, il Vescovo incontrerà i bambini, i genitori e i catechisti della parrocchia di San Giuseppe e alle 11 la celebrazione della Santa Messa. Lunedì 13 febbraio alle 21.15 il Vescovo interviene all'incontro dei percorsi di luce alla cappellina di Sant'Antonio di fronte alla chiesa di San Matteo. Martedì 14 febbraio alle 11 in Vescovado si riunisce il Consiglio Episcopale. Alle 21, sempre martedì 14 febbraio, l'incontro preparatorio del quarto vicariato al convegno catechistico diocesano alla parrocchia di Santa Lucia. Mercoledì 15 febbraio alle 21.15 in occasione della visita pastorale al secondo vicariato il Vescovo incontra il Consiglio pastorale e il Consiglio Affari Economici alla parrocchia di Sant'Andrea. Giovedì 16 febbraio alle 21.15 il Vescovo incontra i parroci e gli animatori dei Cresimandi dei mesi di maggio e giugno. Venerdì 17 febbraio alle 18.30 in Vescovado il Vescovo incontrerà i Cresimandi del mese di marzo con i loro genitori. Alle 21.15, sempre venerdì 17 febbraio, in occasione della visita pastorale al secondo vicariato, il Vescovo incontrerà gli operatori della catechesi, della liturgia, della carità e delle missioni della parrocchia di Sant'Andrea Apostolo. Sabato 18 febbraio alle 8.10 il pellegrinaggio mensile diocesano al Santuario di Montenero guidato dal Vicario Generale e a seguire la Santa Messa. Alle 10, sempre di sabato 18 febbraio, l'incontro di formazione per gli educatori che operano nell'ambito della preparazione al matrimonio e nella conduzione dei gruppi di giovani coppie alla parrocchia di Santa Lucia. Grazie per essere stati con noi, ci vediamo la prossima settimana e non perdetevi le altre notizie sulla settimanalivorno.it